dunque eravamo rimasti con questo bel libro della russo una nostalgica ricerca della fede flavia russo molto si è scritta a proposito dell'opera di pietro nigoni come ritrattista di grandi personaggi ma rimane spesso in ombra la sua produzione di arte sacra le schede che costituiscono il corpus del volume sono frutto di una meticolosa ricerca di archivio ammossa dal desiderio di ricostruire le diverse vicende legate ai luoghi del territorio fiorentino in cui il pittore ha lavorato le opere studiate sono infatti legate a storie particolari nate dagli incontri personali dell'artista con i singoli committenti dal priore di San Lorenzo alle suore della scuola dove studiavano i suoi nipoti avulse pertanto da concorsi o committenze pubbliche l'arte di Anigone non si inserisce quindi come opera programmatica all'interno della comunità cattolica fiorentina ma scaturisce dai legami con i diversi luoghi dove egli lascia un segno del suo passaggio ne è un esempio all'ampante l'incontro con il domenicano padre Spinilla fa autore di molti circoli culturali all'interno del convento di San Marco ai quali l'artista non prenderà mai parte nonostante Anigone rimanga legato al frate e agli altri cenobiti di San Marco realizzando per loro numerose apre lungo tutto l'arco della sua carriera non sarà mai interessato ad appartenere alla comunità culturale da essi rappresentata la scelta di discostarsi dalle canoniche congregazioni culturali cattoliche di quegli anni rientra infatti in una sua ricerca personale della fede rintracciabile sempre in un secondo grado di lettura delle sue opere il corpus delle opere presentate permetterà dunque di seguire in vari episodi l'evoluzione di conoscenza consapevolezza di fede del maestro svelata silenziosamente nelle scelte iconografiche al percorso umano è indissolubilmente allegato quello artistico nel senso più genuino del termine la tecnica ai modelli della tradizione e il rapporto o lo scontro con gli artisti del novecento la scelta di una pittura figurativa fedelmente perseguita per tutta la sua carriera è la prima caratteristica che inquadra l'arte di Anigoni nel panorama artistico del ventunesimo secolo spesso la critica contemporanea e postuma hanno accusato il maestro di anacronismo non analizzando fino in fondo come la sua posizione sia stata l'esito consapevole del rapporto con molti artisti del periodo basi pensare alle distanze subito prese dalle lezioni di pittura di Felice Carena frequentate durante gli anni all'Accademia di Belle Arti di Firenze i soggetti delle opere di Carena risultano plasticamente solidi e massicci grazie